Mercedes-Benz Italia ha da sempre nel proprio DNA la continua ricerca tecnologica di innovazioni e soluzioni intelligenti che si adattino ai continui cambiamenti dei nostri giorni. Ed è proprio grazie a questa vision che in collaborazione con Google Italia nasce l'innovativo racconto La forma delle nuvole, un libro scritto da Gianrico Carofiglio, fruibile da qualsiasi dispositivo mobile o fisso in grado di adattare la storia ad ogni lettore grazie ad uno speciale sistema di geolocalizzazione. Questo incontro tra tecnologia e cultura vuole simboleggiare la filosofia di Mercedes-Benz e di particolare della sua attrazione integrale intelligente 4Matic a cui è dedicata l'iniziativa, capace di adattarsi in tempo reale alle mutate condizioni stradali e meteorologiche per garantire sempre la massima sicurezza e il piacere del viaggio.